Montesano, Terna. Oggi il deposito della nota presso il GIP di Lago Negro. Poste italiane. Entro il 2018 il completamento del piano di consegna a giorni alterni avviato nell'ottobre del 2015. La saggese chiede la sospensione. Padula. Domenica 15 ottobre giornate fai. Gli allievi del Pisacane guida in Certosa. Ferzola. Un progetto che aiuterà i giovani ad amare la propria terra. Polla. Ieri la finale dell'Integration Cup. Vincono i ragazzi dello Sprar di Eboli. Polla. Ritorna il Festival dei Corti per parlare di bullismo, anoressia e dislessia. Buongiorno, ben ritrovati con l'informazione di Uno News. In apertura a Terna, come avete sentito, oggi sarà depositata la nota presso la Cancelleria del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lago Negro. Si aggiunge così un altro tassello nella vicenda della stazione Terna che vede coinvolto il Comune di Montesano. Per il Sindaco Rinaldi questa è una vicenda piena di sopprusi. Il servizio di Antonella Citro. Depositeremo la nota presso la Cancelleria GIP del Tribunale di Lago Negro in vista dell'udienza penale che esiterà il prossimo 18 ottobre a seguito di un mio esposto querela, quale il Sindaco protempore del Comune e cittadino montesanese. Esordisce così il Sindaco Giuseppe Rinaldi nel commento lasciato sulla sua pagina Facebook. Salgono così a 38 gli episodi raccontati relativi alla tanto discussa e complessa vicenda legata alla paventata costruzione della stazione elettrica di Terna. Ci abbiamo lavorato tanto con i legali incaricati e porteremo, come preannunciato, nuova documentazione a sostegno delle nostre tesi difensive, continua Rinaldi. Stiamo buttando l'anima su questa triste vicenda fatta di sopprusi e negligenze volute. Ringrazio i tanti che ci sostengono in questa fase e che capiscono la priorità di questa battaglia per il futuro del nostro territorio. Ringrazio inoltre il Comitato Nessun Dorma che sensibilizza il problema e continua con passione la sua lotta contro Terna, gli amministratori sensibili degli altri comuni e di tutti gli enti sovracomunali per la vicinanza. Giuseppe Rinaldi trae poi spunto da una frase di Tolkien per parlare a tutti loro circa questa battaglia fatta di dignità per un popolo. Non tocca a noi dominare tutte le maree del mondo, riporta. Il nostro compito è di fare il possibile per la salvezza degli anni nei quali viviamo, sradicando il male dai campi che conosciamo, al fine di lasciare a coloro che verranno dopo terra sana e pulita da coltivare. Insomma, prosegue la discussione su una vicenda che ormai da tanto tempo sta tenendo banco nel Vallo di Diano. Un ventenne senegalese ospite di un centro di accoglienza è stato arrestato a Padula per resistenza pubblico ufficiale dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Davide Acquaviva. I carabinieri di Padula lo hanno rintracciato per eseguire un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emissa dal Tribunale di Napoli. Alla vista dei militari il giovane ha tentato la fuga, raggiunto a opposto resistenza provocando lievi lesioni ad un carabiniere. È stato poi di conseguenza bloccato e tratto in arresto. Già mesi fa era stato fermato in flagranza di reato a Napoli per reati inerenti alla droga. Ora si trova agli arresti domiciliari. E ieri pomeriggio a Sala Consilina è scoppiata una lite che è finita a colpi di coltello. Ascoltiamo il servizio. Ieri pomeriggio in pieno centro a Sala Consilina una lite tra un trentenne pregiudicato e un ventisettenne del posto finisce a colpi di coltello. Ad avere la peggio il ventisettenne che è rimasto ferito. Ad indagare sull'accaduto i carabinieri della stazione locale unitamente a quelli del nucleo operativo e radiomobile coordinati dal capitano Davide Acquaviva. Dalla ricostruzione dei fatti pare che i giovani avessero per futili motivi ingaggiato una colluttazione all'interno di un bar del centro di Sala Consilina e che poi il trentenne, armatosi di un coltello con una lama di circa 20 centimetri, avesse inseguito il ventisettenne ferendolo alla mano e alla spalla. Avvertiti, i militari si sono prontamente recati sul posto e a fatica perché il giovane armato poneva resistenza, sono riusciti a fermarlo e quindi arrestarlo. Il giovane, responsabile dell'accoltellamento, dovrà rispondere tra le imputazioni anche di quella di resistenza pubblico ufficiale e porto abusivo di arma da taglio. L'autorità giudiziaria intanto ha disposto che resti presso le camere di sicurezza della compagnia carabinieri di Sala Consilina in attesa di giudizio. A tre anni dall'entrata in vigore dall'avvio del piano di poste italiane per la consegna della posta giorni alterni, avviato nell'ottobre del 2015, arriva ora, a pochi mesi dal completamento dell'ultima fase, l'interrogazione al Ministro per lo sviluppo economico da parte della senatrice Angelica Saggese, che evidenzia come tale piano abbia provocato disservizi nei comuni in cui è stato attivato. 39 comuni a sud di Salerno sono stati colpiti dalla decisione. Ascoltiamo il servizio. A pochi mesi dall'entrata a pieno regime del piano di recapito postale, varato nel 2015 e che prevede la consegna della posta giorni alterni in ben 5.300 comuni italiani, partono le interrogazioni da parte degli esponenti politici, con la senatrice Angelica Saggese, che ricorda come nei comuni in cui è stato già attivato il piano si registrano disagi e caos ed ancora una volta farne le spese sono stati cittadini. Da 2015 la consegna della posta giorni alterni è stata attivata in diverse fasi, con province e comuni che sono stati chiamati ad attivare il nuovo piano di recapito postale a gruppi e seguendo precise date. Entro il 2018 dovranno attivare il piano gli ultimi comuni individuati da poste italiane, tra questi anche 126 comuni salernitani e 39 quelli ricadenti nell'area sud di Salerno. Vallo di Diano, Golfo di Policastro e Alburni particolarmente colpiti dal provvedimento di poste italiane. Basti pensare che per il Vallo di Diano l'unico comune che non rientra nel ridimensionamento del servizio è Sala Consilina. Per il Golfo di Policastro salvo solo il comune di Sapri, mentre Alburni e aree contigue entro il 2018 dovranno tutti fare i conti con il recapito della posta giorni alterni. Le date d'inizio della nuova modalità saranno restanotte dai comuni tempestivamente almeno 30 giorni prima che venga avviato il nuovo sistema. La consegna giorni alterni non riguarderà tutta la tipologia di posta, ma dovrebbero essere esclusi e quindi tempestivamente consegnate raccomandate, assicurate, telegramme, quotidiani settimanali in abbonamento e pacchi Amazon. Quindi ultima e decisiva fase per completare il piano la cui attivazione è partita nell'ottobre del 2015, per poi proseguire con la seconda fase a partire dall'aprile 2016. La terza fase invece è partita nel febbraio 2017 ed è tuttora in atto. Ma dalle provvedimento, laddove già avviato, ha fatto registrare notevoli disservizi per imprese, famiglie e istituzioni locali che si sono visti recapitare bollette o altra posta in notevole ritardo. Da qui l'interrogazione della senatrice saggese che sottolinea la riorganizzazione dei servizi che Poste Italiano effettua sul territorio dovrebbe essere condivisa con le istituzioni locali al fine di essere il meno gravosa possibile anche da un punto di vista economico, soprattutto per quei cittadini, parliamo delle fasce deboli in primis, che non usano servizi telematici. Inoltre, continua la senatrice del PD Angelica Saggese, la non consegna di bollette può comportare interessi di mora o addirittura sospensione del servizio. Tutto ciò, prosegue, va in contrasto con il DDL Piccoli Comuni, le cui finalità sono proprio quelle di garantire e assicurare alcuni servizi essenziali negli enti locali più piccoli. Parte così l'interrogazione al Ministro dello Sviluppo Economico per chiedere se ritiene opportuno l'intervento finalizzato a bloccare o comunque rivedere il piano in questione, evitando ulteriori disagi ai cittadini, imprese ed enti territoriali. Domenica prossima, 15 ottobre, le giornate FAI vedranno in campo anche la Certosa di San Lorenzo a Padule, con guide d'eccezione. Gli allievi dell'Istituto Carlo Pisacani saranno chiamati ad accompagnare i visitatori in Certosa, illustrando loro la storia, la cultura e le bellezze artistiche, culturali ed architettoniche di cui è ricca. Per l'occasione saranno aperte al pubblico aree che solitamente non sono visitabili in quanto sale particolarmente delicate, come la biblioteca che conserva ancora integralmente la scaffalatura, la pavimentazione e pochi libri salvati dalla depredazione ad opera dei francesi. L'iniziativa ed il coinvolgimento dei giovani, secondo quanto dichiarato dalla dirigente scolastica Liliana Ferzola, consentirà agli stessi di acquisire maggiore consapevolezza della grandezza del territorio in modo da saperlo difendere e promuovere negli anni a venire. In merito alla giornata speciale di Domenica abbiamo ascoltato, insieme alla dirigente scolastica Ferzola, anche l'assessore alla cultura del comune di Padula, Filomena Chiappardo. Ascoltiamo. Abbiamo puntato tutto all'apertura sul territorio e intendendo per territorio tutti i valori e le potenzialità intorno alle quali si può intravedere una qualche possibilità di sviluppo sinergicamente con tutti quanti gli altri enti locali e con le associazioni. Noi questo è il terzo anno che lavoriamo sulla Certosa di San Lorenzo. L'episodio legato al FAI che ci rende orgogliosi perché avvicina non soltanto le persone che vengono da fuori a questo bene architettonico e non solo meraviglioso, ma avvicina anche i ragazzi del liceo di Padula in particolare, anche se ci saranno rappresentanti pure dei ragazzi degli altri ordini di scuola, li avvicina alla cultura della promozione del territorio attraverso la conoscenza ma soprattutto da protagonisti perché i nostri studenti hanno studiato, hanno studiato gli artisti dell'arte contemporanea che sono presenti in Certosa, hanno studiato insieme agli orfani che hanno una loro cella per comprendere quale grande importanza dal punto di vista anche sociale ha avuto la Certosa nel corso della Seconda Guerra Mondiale e hanno studiato anche gli autori contemporanei. Saranno loro che faranno da Cicerone sia in lingua italiana che in lingua inglese domenica dalle 9 di mattina fino alle 19 di sera. Sì, il comune di Padula ha aderito come partner all'iniziativa che è un'iniziativa che si svolgerà in forte sinergia sia con il Polo Museale della Campania, nella persona della dottoressa Alfinito che è la direttrice della Certosa di San Lorenzo e sia con i ragazzi del liceo scientifico Carlo Pisacane, quindi con la preside Liliana Ferzola e con i docenti. È un'occasione importante per i ragazzi poter spiegare quello che è il patrimonio culturale con il quale si trovano a convivere e per cui sarà un'occasione di promozione, di valorizzazione legata ai talenti del liceo scientifico Carlo Pisacane e quindi da questo partiranno poi delle altre iniziative che sempre in collaborazione con il liceo porteremo avanti nel corso dell'anno. Domenica dalle 9 alle 19 ci saranno delle aperture straordinarie realizzate grazie alla collaborazione con il FAI sarà aperta anche la biblioteca, sarà aperto il piano superiore della foresteria, quindi la Cappella di Sant'Anna, i Granai e in più sarà possibile visitare per gli ultimi giorni, perché si chiuderà il 21 ottobre, la mostra Le Tre Certose sarà aperta anche la cella numero 1, spiegata sempre dai ragazzi, per cui domenica sarà una giornata di massima apertura di massima valorizzazione di quello che è il patrimonio simbolo di tutto il territorio. In occasione della giornata del contemporaneo che si svolgerà sabato a Sassano l'associazione Factotum ha organizzato la mostra d'arte dell'artista padulese Giuseppe Cestaro vediamo insieme Sabato 14 ottobre si terrà la tredicesima giornata del contemporaneo promossa dall'associazione dei musei arte contemporanea italiana sono tantissime le iniziative sul territorio valdianese anche Sassano grazie all'associazione Factotum aderisce a questo importante appuntamento organizzando presso Palazzo Piccini la mostra d'arte con le opere dell'artista di Padula Giuseppe Cestaro Cestaro, nato nel 1949 a Padula, lasciò nel lontano 1967 quando si trasferì in Svizzera dove scoprì l'amore per l'arte e la pittura partecipando dal 1974 a diverse mostre collettive in varie località del nord Italia nel corso degli anni Giuseppe Cestaro ha vinto numerosi premi e nel 1986 è stato nominato membro accademico a vita ed insignito del diploma d'onore presso l'Accademia Universale Alessandro Magno nonché è stato nominato Cavaliere del Fiorino dall'Accademia del Fiorino di Prato la mostra in programma sabato a Sassano è stata curata dalla figlia dell'artista Loredana Cestaro e dalla presidente dell'associazione Factotum Antonella Inglese nell'ambito di una iniziativa nazionale abbiamo voluto valorizzare un artista locale ha dichiarato il presidente dell'associazione Factotum Giuseppe Cestaro dalla relazione di particelle di pensieri e di osservazioni ha innescato, aggiunto inglese, un'esplosione nel nucleo della sua intimità fino a generare un universo totalizzante fatto di natura, bellezza, unione di popoli il tutto passando per una ricerca che lo ha condotto ad un intenso misticismo la maturazione dunque ha bisogno di introspezione per l'artista e di sperimentazione per l'arte sono molto felice di esporre per la prima volta nel Vallo di Diano, la mia terra natia dopo tante esperienze in Italia e all'estero, ha dichiarato Giuseppe Cestaro sento che ciò rappresenta la chiusura naturale di un ciclo e lo stimolo per iniziarne di nuovi, proprio quello di cui sono alla costante ricerca Anche la certosa di San Lorenzo a Padula sarà protagonista sabato prossimo in occasione della giornata del Contemporanea promossa da Amaci diversi luoghi ospiteranno a partire dalle ore 10.30 mostre di arte contemporanea dove saranno esposte le opere di artisti quali Diego Granese, Maria Dompe, Giuseppe De Marco e Marco Coraggio sulla giornata abbiamo ascoltato la direttrice della certosa Emilia Alfinito La certosa ha aderito a questa giornata del Contemporaneo indetta da Amaci questa associazione di tutti i musei di arte contemporanea e con ben tre eventi il primo che inizierà alle 10.30 per noi riveste un'importanza grande perché si sta attuando il progetto del servizio civile noi abbiamo partecipato al bando e abbiamo ottenuto la presenza di tre giovani all'interno della certosa che per un anno intero ci supporteranno principalmente per quel che riguarda l'arte contemporanea la carenza di personale non ha consentito finora l'apertura di tutte le celle quindi la presenza di questi ragazzi farà sì che si possano aprire su prenotazione le celle nei giorni feriali entro le 11 perché alle 11 si crea un gruppo che farà il giro delle celle e quindi questa presentazione di questa prima serie di visite si farà alle ore 10.30 di sabato e poi da lunedì in poi su prenotazione per tutti sarà possibile prenotare questo giro nelle celle dell'arte contemporanea alle 12.30 ci sarà l'incontro con l'artista l'artista Maria Dompe che ha realizzato l'installazione che è stata realizzata per la mostra Il Cammino delle Certose che è ancora visibile fino al 21 ottobre e che adesso è in lavorazione perché naturalmente questa è un'opera verde che è stata realizzata per la mostra nel mese di luglio quindi aveva un aspetto più estivo con il grano eccetera per prendere poi da adesso in poi quello che sarà il suo aspetto definitivo un'opera verde realizzata con piante basse e infessanti che possono essere piantate solo in questo periodo e Maria Dompe presenterà la sua opera insieme a tutta la sua produzione e poi alle 19.30 con questo progetto di apertura straordinaria della Certosa che rimarrà aperta fino alle ore 22 verranno presentate quelle opere di arte contemporanea che l'allora soprintendenza per i beni architettonici acquistò grazie a un bando vinto con la sezione arte contemporanea del Ministero le opere sono di Diego Granese, Lippocampo, una installazione e poi la serie di video arte realizzati da Giuseppe De Marco e Marco Coraggio queste opere vennero acquistate nell'ambito della Biennale d'Arte Contemporanea che si tende fra 2012 e 2014 quindi adesso è arrivato il momento della presentazione ufficiale di queste opere e che ci riempie di orgoglio perché noi così abbiamo avviato anche una mediateca di video arte che è composta dalle opere che sono state realizzate per le opere i giorni anche alcune opere di video arte e poi queste altre che sono state acquisite in un secondo momento Proroga per il direttore del Parco Romano Gregorio resterà infatti in carica fino al prossimo gennaio intanto il Ministero dell'Ambiente ha riaperto i termini per le candidature ascoltiamo il servizio Con delibera numero 10 dello scorso 5 ottobre il Presidente del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Dalburni, Tommaso Pellegrino proroga la nomina del direttore facente funzioni Romano Gregorio fino al gennaio 2018 Il Sindaco di Laurino è in carica dallo scorso marzo quando un provvedimento del Tribunale di Vallo della Lucania accolse il suo ricorso contro la nomina direttore di Giovanni Ciao e che i giudici ritennero che Romano avesse nella sua funzione di vice direttore una posizione di preferenza ai fini dell'attribuzione delle funzioni di direzione Sono state eseguite altre due proroghe per quest'ultimo nel luglio scorso e ottobre corrente mese Tra le motivazioni della decisione attuale si legge che Romano Gregorio ha espletato le funzioni assegnate dimostrando competenze e professionalità dando piena attuazione alle linee di indirizzo e agli obiettivi programmati dall'organo di vertice Una scelta dunque maturata al fine di garantire la continuità amministrativa e gestionale dell'ente Secondo Cono Delia, vicepresidente dell'ente Parco la mancata scelta del nuovo direttore è una questione di oggettiva responsabilità Il Ministero dell'Ambiente infatti ha riaperto i termini per coloro che vogliono inserirsi nell'elenco di aspiranti direttori Pubblicità e poi di nuovo in studio Bentornati in studio Conclusa ieri sera la prima edizione dell'Integration Cup La manifestazione sportiva è stata vinta dai ragazzi dello Sprar di Eboli Grande successo e partecipazione presente anche il presidente della provincia Giuseppe Canfora Sentiamo il servizio e l'intervista Non si poteva concludere nel migliore dei modi la prima edizione dell'Integration Cup il torneo di calcio a 11 che ha visto i protagonisti immigranti ospiti in diverse strutture della provincia di Salerno L'atto finale si è giocato allo stadio Medici di Polla e ha visto la vittoria in rimonte dei ragazzi dello Sprar di Eboli contro la formazione dei minori non accompagnati di Sassano ai supplementari con il punteggio di 5 a 3 dopo che i ragazzi valdianesi erano stati in vantaggio addirittura sul 3 a 1 Un torneo messo in piedi grazie all'aiuto della Caritas di Ocesana con Don Vincenzo Federico soddisfatto per la riuscita dell'iniziativa Lo sport è una dimensione molto importante nella dinamica, nella crescita, nello sviluppo nei rapporti, nelle relazioni, nell'inserimento nel territorio lo sport, la scuola, la cultura, la conoscenza della nostra lingua e il lavoro costituiscono quelle dimensioni importanti per far sì che queste persone possano abitare il nostro territorio con grande dignità e dare il loro apporto, il loro contributo, la loro energia, le loro risorse umane anche le loro freschezze, non solo sportivamente parlando ma anche sul piano dell'impegno lavorativo e anche nel supporto nella presenza delle nostre scuole L'Integration Cup è stata anche l'occasione per far incontrare diversi migranti ospiti nelle varie strutture salernitane ma anche l'occasione per evidenziare il ruolo giocato dalla provincia di Salerno sull'accoglienza come sottolineato il presidente della provincia Giuseppe Canfora La provincia di Salerno sta dimostrando che in prima battuta è un territorio di accoglienza ma subito dopo è un territorio di integrazione questa è la sfida più bella, è la sfida per eccellenza credo che la provincia di Salerno in questo sia sicuramente insieme al capoluogo perché negli ultimi anni Salerno è stata la città che ha avuto probabilmente il maggior numero di sbarchi abbiamo dimostrato di essere un capoluogo e una provincia in tema di accoglienza, in tema di integrazione non abbiamo nulla da invidiare a tante altre province italiane se non siamo addirittura tra i primi Grande soddisfazione anche da parte dell'amministrazione comunale di Polla presente al gran completo nell'ultimo atto della Kermess con il sindaco Rocco Giuliano che ha ricordato come la sua comunità rappresenta un esempio positivo per quanto riguarda l'accoglienza e la solidarietà possiamo dire che Polla è uno dei pochi paesi che possiamo prendere come esempio riguardo all'integrazione e all'accoglienza chi ha bisogno di accoglienza e soprattutto di solidarietà questo grazie a un lavoro di sinergia quindi tra l'ente comune, la stessa prefettura e chi gestisce le cooperative che gestiscono le varie fasi degli immigrati quindi privisco alla Caritas quindi grazie a questo rapporto di legge noi a Polla possiamo dire che abbiamo un'ottima integrazione La finale del torneo è stata diretta dall'ex assistente di Lega Pro afferente alla sezione di Sala Consilina Massimo Manzolillo Il 5 novembre prossimo si terranno a Sant'Arsegno le elezioni per il rinnovamento del Forum dei Giovani entro il 23 ottobre sarà possibile presentare le proprie candidature Ascoltiamo Sono state aperte le iscrizioni per candidarsi alla carica di consigliere del Forum dei Giovani di Sant'Arsenio Il consigliere delegato alle politiche giovanili Luigi Biscotti ha annunciato il rinnovamento degli organi e della compagine di governo del Forum con le elezioni in programma il prossimo 5 novembre mentre l'ultima data per la presentazione della propria candidatura è fissata il 23 ottobre prossimo I giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni che vogliono far parte del nuovo gruppo comunale giovanile avranno l'importante compito di essere da collante tra i giovani del Comune e l'amministrazione comunale in maniera tale da individuare i bisogni su cui intervenire ed eventualmente proporre le proprie idee sarà anche un utile strumento per avviare una partecipazione più attiva alla vita politica del Paese ricoprendo anche l'importante ruolo di creazione di un sano tessuto sociale fatto di valori umani e di condivisione e unità Dopo l'approvazione in Consiglio Comunale della delibera di istituzione del nuovo Forum dei Giovani e del Relativo Statuto sono stati aperti i termini per la presentazione delle candidature Sono sei gli organi sociali da eleggere l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Coordinatore, il Vice Coordinatore il Segretario e il Tesoriere che resteranno in carica per tre anni Lo Statuto, che è pubblicato e consultabile sull'albo pretorio del Comune di Sant'Arsenio definisce anche le aree di interesse del Forum che dovrà occuparsi di temi legati alla formazione ed istruzione lavoro e disoccupazione giovanile politiche culturali e sociali come ambiente, solidarietà, volontariato e associazionismo razzismo, integrazione e differenza, pari opportunità, disadattamento giovanile Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12 del 23 ottobre presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Sant'Arsenio Le elezioni degli organi, invece, sono in programma per domenica 5 novembre dalle ore 10 alle ore 20 Iniziato il countdown per l'originale e prestigiosa kermess cinematografica Corti a Sud Polla in Corto ideata ed organizzata dal consorzio Polla in Corto che si terrà al Don Bosco il prossimo 14 ottobre Il festival è giunto alla quinta edizione e negli anni ha collezionato un ampio consenso di pubblico e di critica con note positive da parte di tutta la stampa grazie anche alla prestigiosa presenza di ospiti e il prezioso e continuo sostegno di grandi partners Ascoltiamo il servizio Ritorna il prestigioso festival dei corti dedicato agli alunni delle scuole italiane per parlare di bullismo, anoressia e dislessia Iniziato il countdown per l'originale e prestigiosa kermess cinematografica Corti a Sud Polla in Corto ideata ed organizzata dal consorzio Polla in Corto che si terrà al Don Bosco di Polla il prossimo 14 ottobre Il festival è giunto alla sua quinta edizione e negli anni ha collezionato un ampio consenso di pubblico e di critica con note positive da parte di tutta la stampa grazie anche alla presenza di numerosi ed illustri ospiti e al prezioso e continuo sostegno dei grandi partners L'evento cinematografico che si svolgerà in questa edizione autunnale all'interno del centro sociale Don Bosco in via Garibaldi a Polla sarà ricco di proiezioni, interviste, incontri e premiazioni L'evento prosegue dunque grazie al lavoro costante del gruppo che ha coinvolto numerose personalità artistico-professionali creando una kermess dedicata al mondo della scuola facendo diventare il festival un evento cinematografico di carattere formativo oltre che ludico Corti Giovani è questa la principale novità di un festival che negli ultimi anni ha saputo ritagliarsi un suo sempre più largo spazio facendosi apprezzare da pubblico e critica specialmente per l'ampio spazio concesso ai partecipanti come sempre partecipazione gratuita e tema delle opere libero volendo in questo modo l'organizzazione consentire la massima espressione dei giovani filmmakers e delle loro opere tra i vari generi e sezioni proponibili una costola della manifestazione che attribuisce un riconoscimento artistico alle opere audiovisive, ai registi, agli attori in erba che con elevata professionalità nonostante la giovanità hanno saputo trattare argomentazioni forti su tematiche tipiche del nostro tempo quali bullismo, vessazioni e violenze nelle più svariate sfaccettature opere capaci di solleticare la coscienza e fare riflettere su tematiche sociali tipicamente giovanili ad arricchire le serate, incontri con registi ed attori nonché produttori per parlare di cinema un intero pomeriggio di proiezioni di opere provenienti da vari istituti scolastici italiani in tutto 5 le opere selezionate su decine giunte 5 i corti in concorso che si contenderanno il premio di migliore corto del festival la quinta edizione dell'evento è fissato dunque per sabato 14 ottobre con inizio alle ore 17 una sezione tutta dedicata al mondo scolastico e alle sue svariate sfaccettature con interventi di docenti, amministratori, esponenti ecclesiastici ed esperti del settore domenica prossima 15 ottobre torna la giornata del ricordo giunta alla 13esima edizione e contestualmente saranno anche assegnati premi della quarta edizione del concorso arte e poesia vediamo torna con la sua 13esima edizione la giornata del ricordo ormai tradizionale appuntamento dedicato agli ex allievi dell'orfanotrofio della Certosa di Padula la manifestazione si svolgerà domenica prossima 15 ottobre a partire dalle ore 9 presso la sala Tiffany dell'hotel Certosa l'associazione Nuove Idee che la organizza da anni ha portato alla ribalta nazionale una pagina importante e a lungo sconosciuta della Certosa di San Lorenzo il monumento certosino fu infatti dal 1923 al 1960 luogo di accoglienza per circa mille orfani di guerra a scrivere questa nobile pagina della Certosa furono le figure indimenticabili di padre Giovanni Semeria e di padre Giovanni Minozzi per entrambi è in corso la causa diocesana di beatificazione fondarono l'opera nazionale per il mezzogiorno d'Italia e quindi l'orfanotrofio della Certosa di Padula insieme a tantissimi altri agli orfani di guerra che in circa 40 anni di attività furono accolti nel monumento certosino fu garantito un tetto la sopravvivenza e l'istruzione tra le attività di formazione portate avanti con successo vi erano la scuola di avviamento agrario e la scuola di specializzazione industriale e anche quest'anno sono centinaia gli ex alunni e i loro familiari attesi domenica a Padula provenienti dall'Italia e dall'estero e alcuni varcheranno per la prima volta la soglia della Certosa di Padula dopo tantissimi anni la giornata del ricordo sarà anche occasione per ricordare madre Cecilia Ferri deceduta sotto le macerie del terremoto del centro Italia nell'agosto 2016 fu una delle sette vittime del crollo dell'istituto femminile dell'opera nazionale per il mezzogiorno di Amatrice edificato nel 1919 domenica saranno anche consegnati i premi della quarta edizione del concorso Arte e Poesia dedicato a Padre Giovanni Menozzi anche quest'anno, dicono gli organizzatori, la partecipazione è stata entusiastica il nostro Tg termina qui io vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo l'appuntamento con l'edizione serale grazie a tutti